Poteva essere un altro video su tutti gli spostamenti di oggi, tutti gli incontri, i dettagli, le parole, i momenti, le curve, gli alberi, i binari, il cielo, la vecchia Roma, il traffico, i vetri sporchi, i marciapiedi, i taxi che funzionano, i libri della borsa, la musica che mi ha accompagnato, il guardare fuori dal finestrino, l'attesa, i silenzi, i momenti, le pause, i cambiamenti, l'intensità, il ritmo, l'architettura fascista, il leur, le visite improvvisate e le brevi pause, gli incontri stimolanti e la routine che diventa speciale. Invece è diventato un video su una piccola fuga, quel momento che ogni tanto troviamo in giornate come queste per smarcarci da tutto il resto e trovare un nostro angolo, dove quasi non ci possono trovare, dove respirare, respirare aria vera. Bisogna essere veloce però, approfittarne quando nessuno se ne accorge, non farsi notare, non dirlo a nessuno, senza nascondersi ma trovando il momento giusto. Ogni tanto scappare fa bene, bisogna, bisogna concederselo, bisognerebbe portarsi dietro qualcuno, bisognerebbe farlo durare di più. Ma va bene così, oggi è stato anche sorprendentemente piacevole e un luogo che, se si guardava più in alto del proprio momento, avrebbe potuto essere ovunque.